ragazzi 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 no 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 non è questo per farvi capire quanti tab sono lecchini ecco stanno dicendo a gabbo che c'è una pezzone con uno della credente che è vero ora vi faccio vedere io io ho spento un'altra sono a terza è facile vincere così solo secondo dai carico primo mo li voglio vedere è vero 2 giri, abia, speciale, attacchiamo da primo dai, 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 dai sii, abia primo, mamma mia si va a concludere in prima concludo in prima ma com'è concluso Tugget? mi hanno spinto oh, Tugget, che c'è, è turbante ma davvero forse, forse Capo ce l'ha fatta no, no è caduto da un'altra check, infatti è fermo sta piangendo, Gabbo sta piangendo sai, sai il perché arriviamo sempre prima io, Dario grazie grazie al Capo Criu che è il mio Tugget, che balla, dai su solo quello aspettavo 0 RP, va bene, dai che se ne frega guarda, guarda, guarda Tugget, che balla eh, 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 eh l'estero, l'estero ciao, Zee troppo bello ma, ma poi, ma poi due lì ragazzi, ma ma non sono della mia crew erano, erano i piloti abusivi ciao